I lavoratori in Italia oggi non sono rappresentanti... Fra caro, però io ti ho lasciato parlare che hai detto tante cose interessanti. Allora, l'Italia è un paese in sofferenza. C'è chi fa bene il suo lavoro, i partiti fanno benino o malino, male forse. La politica non funziona, le classi dirigenti hanno fallito, i sindacati... Però stiamo attenti a non eliminare... Grazie a tutti.